allora eccoci a passo san rocco praticamente il passo divide il lago di idro dal lago di garda nel senso che poi da qui si prosegue verso capovalle quindi la valvestino noi oggi saliamo invece al montestino adesso vi faccio vedere il bivio per il montestino dove salire da a rifugio spettacolare di cui si sale montestino